La frecciata a TV Talk Gerry Scotti contro Antonella Clerici? La frecciata a TV Talk Antonella Clerici attaccata a TV Talk? La dichiarazione di Gerry Scotti. Ospite dell'ultima puntata andata in onda di TV Talk è stato Gerry Scotti. Tante sono state le domande poste al conduttore di caduta libera e tante sono state le dichiarazioni fatte dal noto presentatore televisivo. Durante il corso del programma, alcuni telespettatori hanno notato, tra le tante affermazioni dell'ospite in studio, alcune frecciatine alla collega Antonella Clerici, ma procediamo con calma. . Durante una delle tante domande poste dai ragazzi presenti a TV Talk, Gerry Scotti ha dichiarato che Little Big Show, programma dedicato al mondo dei piccoli, è stato in assoluto uno dei migliori programmi televisivi andati in onda, avente i bambini come protagonisti indiscussi di una trasmissione. . . In molti hanno riscontrato in questa affermazione una frecciatina fatta ad Antonella Clerici, che per anni ha condotto Ti lascio una canzone. . Per chi non lo ricordasse, Ti lascio una canzone, così come Little Big Show, pone al centro dell'attenzione i talenti dei bambini. . 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